Tornano le giornate FAI di primavera. Nella BAT ci saranno quattro aperture speciali. Questa mattina la conferenza stampa a Castel del Monte. La seguita per noi Francesco Rossi. Non ci poteva essere miglior luogo per presentare le iniziative del FAI che il Castel del Monte di Andria. Andria partecipa attivamente a questa iniziativa. Lo fa a partire da questo luogo in particolare. Ma lo fa perché è attenta ad un percorso territoriale, a delle relazioni con le persone. Ed è quanto il FAI fa continuamente attraverso curare, valorizzare e lavorare soprattutto di relazioni con le persone. E questo è un luogo comunque di dialogo. Ci ricorda profondamente questo. Un dialogo da secoli, un dialogo che continua ed un dialogo che ci mette in relazione con i vari territori. Andria, cosa mette a disposizione oltre al Castello naturalmente? Sicuramente le nostre persone. Sicuramente l'attenzione che con il FAI e con la cura è possibile realizzare. E sicuramente passaggi di valorizzazione del nostro territorio insieme a loro, insieme alle persone che da tanto vigilano su ogni aspetto. Che vigilano sulla storia, che vigilano sui beni culturali e che vigilano su tutti gli aspetti storici. Questo diventa importante, questa relazione con loro diventa fondamentale nel costruire e nel costruire insieme.